la morte della mamma avvenuta proprio tra la giornata di ieri e quella di oggi dunque in qualche modo è un tecnico provato quest'oggi con la testa probabilmente da un'altra parte ma insomma professione vuole anche che si giochi oggi l'atto conclusivo di questa stagione ed è qui presente per il secondo portiere ampia rappresentanza della 1 femminile sugli spalti e non solo con le squadre che hanno già giocato le proprie gare che ovviamente ci sono accomodate in tribuna è rimasta anche una delegazione del Noto Club Milano guidata da Amino Marzì, dal tecnico di Blasio, rituale capanello intorno ai proprii tecnici adesso vanno tutte a scambiarsi il 5 prima di fare il proprio in Grecia grazie a tutti 4 anni di lunga assenza per la squadra più titolare è rimasto basso e lo scudetto può avere Pietro Sollecchia in regia da parte di Dario Di Gennaro l'augurio di una buona serata con i programmi di Rai Sport ci si vede con la palla nuoto, la palla nuoto che piace a tutti a Torino per la Final Six O Limpiacos, qui sul piano è la copia di Pandova con le scudetto